Rieccoci insieme con il Biancarosso TV Sport e il nostro ospite Raffaele Rubino. È il momento dei messaggi, dei messaggi che arrivano attraverso le sue STB Sport. Rubino, cosa serve al Bari per risalire in Serie A? È la domanda di Nicola. Ancora leggiamo prima tutti i messaggi per qualche risposta la diamo. Grande Rubino, c'è ancora possibilità di vederti a Bari, è la speranza di Antonio. E poi un altro amico, Raffaele, qual è il tuo più grande rimpianto in carriera? Si chiede Paolo. Ancora Raffaele, uno di noi, si chiama col nome, non col cognome. Raffaele, che tipo di giocatore è lì suzzo? Io lo vedrei bene nel Bari, scrive un amico. Un altro ancora, un forte in bocca al lupo a Rubino per la Serie A e Giuseppe che manda questo messaggio. E poi ancora Raffaele, ma se il Bari dovesse richiamarti? Si chiede Mario. Ancora Rubino, ritieni anche tu come torrente che il livello del campionato di Serie B sia basso, si sia abbassato per quello che potete vedere quest'anno e in particolare negli ultimi anni. Si chiede Giorgio, ancora una domanda, Raffaele, quanti anni di contratto hai ancora con il Novara? Due anni ancora di contratto. Più forte è Bertani o González? Due giocatori importanti, ma Cristian secondo me può entrare nel gioco in qualsiasi situazione. Cioè, palla addosso lui te la sa gestire, girarsi e puntare. Palla in profondità lui sa andare. González è un giocatore completo. González se le ripartenze nell'uno contro uno in velocità è devastante, fa fatica con la palla addosso. Cioè, se gli viene data la palla lui fa più fatica di partire. Lissuzzo è un altro suo compagno di squadra? Lissuzzo è un sanguigno. È un giocatore, anche lui è un palermitano, è un giocatore che è tenace. Un giocatore tenace, che è sempre presente nelle azioni, forte di testa, ottima struttura, è un giocatore che non perde mai di vista l'uomo. Quindi, effettivamente, nell'economia di una squadra, in parte difensiva, è un giocatore importante. Altre domande? Altre domande? Verreste a Bari se ti chiamassero? Il rimpianto, c'è stato anche il rimpianto, era quello lì di non aver mai indossato in prima squadra questa maglia gloriosa, importante per me. Vedrei, sì, purtroppo, ormai l'età condiziona tanto, anche se, però mi avrebbe fatto sempre. Però un anno a chiudere la carriera sarebbe la cirugina sulla torta, no? Vogliamo lanciare questa proposta, l'ultimo anno di carriera, a Bari, Rubini, insomma, sarebbe... Non a svernare, ma sempre il coronamento. No, 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 per carità. Allora, forse abbiamo una telefonata, pronto? Sì, ma insomma, Marcello, da Bari. Ciao, Marcello, ciao. Un saluto a Raffarele. Vuoi ricordare che appunto i primi suoi passi sui campi di calcio sono stati in oratorio dei salisiani, però qualche partita l'ha anche persa, eh? Succede, insomma. E se non erro, ha anche un fratello Onofrio che giocava a basket. Il mio fratello gioca tutt'ora ed è un vincente. Gioca tutt'ora, sì, un vincente. Anche tuo fratello ha iniziato sui campi col signor Coviello, non so se te lo ricordi. Sì, accidenti. Che purtroppo è deceduto qualche anno fa. Ok, bocca al lupo, Raffaele. Grazie, devo dire la verità. Allora, forse più ancora che i giocatori che hanno giocato nel Bari, devo dirti questo, non lo dico perché sei presente, si nota il tuo radicamento in città. Sembra strano per uno che non ha mai giocato con il Bari, però la gente ti avverte un po' come il giocatore della Porta Accanto, anche se tu vivi da tanti anni fuori. Però avvertono, io avverto questo in questa tradizione, devo dirti che non mi era mai successo prima. Parlano di te, sembriamo una chiacchierata fra amici. Io mi fa tantissimo piacere perché veramente, poi chiamano persone che effettivamente mi hanno visto crescere, si ricordano ancora di me. Forse, senza presunzione, io umile ero e mi sento tuttora umile. Non ho mai detto di no a nessuno, ho sempre parlato e dialogato con tutti. Forse questa parte di me rimane e viene apprezzata. E rimasta anche la gloria dei tuoi tifosi. Poi quando posso io torno in città volentieri e faccio le mie cose con tutti, con gli amici, con i vecchi amici. Resta a casa tua questa, insomma. Quindi questa cosa qui forse aiuta a stare bene, a vivere ancora bene. C'è un'altra amica in linea, pronto? Io sono Francesco. Ciao Francesco. Volevo fare una domanda a Rubino. Sì. In virtù delle ultime due stagioni contrastanti del Bari, secondo te è giusto giudicare i giocatori esclusivamente in base all'ultima stagione sciagurata? E poi, secondo te è giusto ripartire da qualcuno dell'attuale Rosa? Un saluto. Perché in effetti è difficile dare un indizio complessivo del Bari, perché alcuni hanno dato 10 l'anno prima e 4 l'anno dopo. No, sicuramente l'annata non positiva condiziona. Condiziona i giocatori, condiziona un po' tutto l'ambiente. Io un'ossatura di giocatori importanti la manterei, anche perché comunque… Quali giocatori ti piacciono, diciamo, da tifoso del Bari? Due nomi, dai, due nomi che magari per una serie di motivi… Ma secondo me alcuni centrocampisti hanno fatto sempre, hanno reso in maniera importante. Mi dispiace, Gillet lo vedo in possibile partenza ed è, secondo me, un perno fondamentale di questa squadra. Però per ripartire, secondo me, c'è sempre bisogno di gente umile, che ha voglia di dare e soprattutto di uomini. Non è facile oggi nel calcio trovare queste due cose, ma io ti posso garantire quando ho vinto, quando ho fatto delle cose importanti, perché oltre a buoni giocatori, c'è un grande gruppo di grandi uomini. Quindi io punterei su queste due cose.